Svegliati Alessandria, buongiorno a tutti i nostri amici che ci seguono da casa. Siamo qui all'interno della caserma Valfredi Alessandria. Oggi è sabato 17 giugno 2023 e oggi abbiamo come ospite Gianni Ivaldi, capogruppo nonché consigliere comunale di Alessandria Civica. Buongiorno consigliere. Buongiorno. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Sì, abbiamo accettato, abbiamo a nostra volta invitato il consigliere perché abbiamo seguito le sue interrogazioni, il suo interesse, uno dei pochi che comunque ogni tanto punta il faro su questa realtà, su questo tesoro come l'abbiamo chiamato noi in un altro servizio che tra l'altro ha delle potenzialità enormi dalla posizione agli spazi eccetera eccetera. La sua idea, il suo approccio su questo problema e che cosa, si ha delle proposte comunque. A me spiace molto per lo stato di degrado che sta vivendo questa struttura. Questa struttura è una ricchezza storica del nostro territorio, è stata costruita alla fine dell'Ottocento, ha rappresentato poi, ha costruito negli anni un legame molto forte con la città e molto forte anche col paese perché qui hanno fatto il militare, tantissimi giovani, superavano le mille persone tra ufficiali, sotto ufficiali, militari e quindi... Mi ha detto qualcuno e ho letto che in tempo di vigenza della caserma anche il commercio e naturalmente la floridità della città era proprio per la presenza... Sicuramente, sicuramente e poi anche per la sua posizione centrale sia per il passato, si trova in centro città, sia per il futuro in termini di rilancio della città e nel 2002 sono andati via i militari e la proprietà di questa struttura è del demanio. Nel 2008 ha stilato un accordo, un protocollo d'intesa con il Comune di Alessandria per quanto riguarda la valorizzazione e devo dire che negli anni questa struttura in attesa di una destinazione è stata valorizzata. Penso alla Fiera di San Giorgio, anche perché qui lo spazio è enorme, penso al Salone del Biscotto, penso a Libri in Festa e per ultimo, alle tante iniziative che si sono organizzate, l'Octoberfest, i Centauri e per ultimo Centro Vaccinale. Dagli inizi di quest'anno l'amministrazione ha restituito la custodia e quindi oggi la situazione è questa, c'è un problema di sicurezza urbana, il cancello è sempre aperto e chiunque può entrare, c'è gente che dorme in questa struttura, hanno portato via tutto, gli infissi, qualunque cosa e poi c'era una chiesetta in cui è stato portato via persino l'altare, quindi è stato spogliato di qualunque cosa e poi c'è anche un problema di crollo, ci sono alcune parti della struttura esterna che perdono mattoni e quindi guarda quel tetto lì, infatti anche ecco facciamo una zoomata, quel tetto ma qui ci sono migliaia di metri quadrati e quindi oltre alla situazione attuale il cancello deve essere chiuso anche perché poi oltre al fatto che entra chiunque ma anche chi può posteggiare, c'è un regolamento perché può venire chiunque e non posteggiare esternamente sulle strisce blu e posteggiare gratuitamente qui, quindi anche ho mancato un assenza di introito per il comune e poi per il futuro, si parla che qui si trasferirà il tribunale, si trasferirà l'archivio di stato, si trasferirà l'agenzia delle entrate, qui si può trasferire chiunque perché lo spazio è molto grande, però quando, quali progetti, quali sono i tempi, in realtà ad oggi si sa ben poco, al di là di uno studio di fattibilità forse in corso e di tante buone intenzioni non c'è altro. Io dopo l'interpellanza e non essendo rimasto soddisfatto dalle risposte dell'assessore in merito, ho chiesto come commissione territorio, devo ringraziare che il presidente della commissione territorio ha organizzato un incontro invitando il demanio, forse per un disguido fra, l'interpellanza l'ho presentata a gennaio, a febbraio c'era l'incontro, per un disguido fra comune e demanio, non si è presentato nessuno. Allora abbiamo chiesto, anche il presidente del consiglio ha chiesto di nuovo un incontro. A maggio si sono presentati due funzionari del demanio nella commissione, però purtroppo la commissione non ha avuto luogo perché hanno detto che non erano autorizzati a parlare in pubblico, perché erano presenti i giornalisti, però la commissione del territorio è una commissione pubblica, poi non è che entravamo nel merito, volevamo sapere informazioni carattere generale, allora adesso il presidente del consiglio su mia richiesta ha chiesto nuovamente un incontro col demanio. Io lo spero, la cosa che mi fa più male al cuore è che l'inazione, non è quale scelta, quale destinazione avrà questa struttura, ma prima ancora metterla in sicurezza, la chiusura del cancello e le zone e poi costruire un piano per il rilancio di questa struttura che poi anche interessa la città, perché questa si trova in una posizione strategica. Abbiamo degli esempi anche vicini, in provincia. Ma sì, Tortona, ma tante belle realtà che l'hanno trasformata. Qui ad esempio, al di là dei vari trasferimenti di uffici pubblici, se ci saranno, Tribunale, Cienzia dell'entrata, Archivistato, qui può essere anche un bellissimo polo fieristico. Quando organizzavano la fiera di San Giorgio, c'era un ritorno da parte della cittadinanza, sia in termini di offerta di qualità, ma anche da parte della cittadinanza, molto elevato. E quindi io dico perché dobbiamo far cadere anche questa struttura, che è una struttura, è una ricchezza storica, e farla diventare un'altra cattedrale nel deserto che ne abbiamo già tante in città. Penso alla piscina pubblica o altre realtà. Anche perché più passa il tempo, più si deteriora e più diventa difficile e costoso recuperarla. Infatti. Quindi io mi appello, adesso io auspico che a breve ci sia questo incontro del demano. Poi se le continua l'inazione, io raccoglierò delle firme, questo per sensibilizzare la cittadinanza, perché questa è parte comune di tutti, è un bene comune, non è un bene privato. Sì, sì, sì. Sì, no, infatti anche con la vicenda, noi ci siamo proprio avvicinate queste tematiche anche con la recente vicenda del Nuoto Club, e poi con la piscina scoperta. Noi abbiamo a che fare con strutture pubbliche, costruite col denaro pubblico e che quindi hanno servito al pubblico, perché la piscina dà un servizio, il Nuoto, i corsi, scolaresche, eccetera, eccetera. Questo comunque ha servito per altri scopi, che mi ha servito sempre lo Stato. E adesso vediamo, in questo caso c'è un abbandono, ma in altri casi vediamo proprio che il pubblico ha veramente mollato queste cose che hanno costituito nel tempo delle certezze comunque un volano anche di formazione, di investimenti, eccetera. Ed è un peccato perché non è solo più una questione di cosa offre la struttura, ma diventa un problema di degrado, di abbandono e di sicurezza urbana per la città. Si parla tanto di degrado. Ecco, perché qua siamo in piena città e qui viene chiunque a dormire, il portone, il cancello è sempre aperto giorno e notte, parcheggia chiunque e chiunque può fare quello che vuole, qui nessuno controlla. Tanto è vero che sono state apportate via anche cose di un certo peso e quindi vuol dire che... E la base prima di tutto viene il decoro, la sicurezza e su quello si costruisce. Quindi la prima cosa è recuperare tutte le informazioni possibili. L'altra cosa sarebbe interessante vedere dove si possono prendere... Vabbè, le idee sembra che ci siano, i soldi, i soldi. Però comunque io penso che la prima cosa, il demanio e l'incontro col demanio è sapere quali sono i progetti, no? Su quello costruire insieme delle possibili destinazioni. Perché poi io sapevo che in passato per una parte era interessato anche l'Este Lunga, no? Sì, non avevano sempre bloccato. Avessero deciso, si liberavano delle risorse, no? Che potevano servire per la città, no? Sì, ma sempre bloccato. Quindi la cosa peggiore è l'inazione e quindi io auspico a breve che inizi questo percorso che porti prima di tutto a stabilizzare la struttura e poi porti a darle di nuovo una destinazione per la comunità. Consigliere, le possiamo chiedere questo impegno? Una volta che lei acquisisce certe informazioni che possono essere utili alla città, ci troviamo nuovamente... Volentieri, volentieri, volentieri. Così seguiamo la questione. Buona questione, perfetto. Grazie di tutto. Va bene. E buona giornata. Grazie mille, consigliere. Grazie, grazie. Arrivederci.